Ah! Ah! Hai avuto la tua ma non per voi! Ah! Ti faccio a questi! Hm? Non puoi battermi! Ah! 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 Perché non mi... Ah! 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 Se ne sono andati! Puoi uscire! Grazie, Mistios! Se non fosse stato per te, saremmo morti! Volevano proprio qualcosa da voi, mi pare! La fattoria è una delle poche risparmiate dalla guerra! Le erbe sono preziose! Le avrebbero sradicate e vendute! A proposito di erbe, è per questo che sono qui! Devo comprarne una per un uomo di nome Melanippo! Dice di conoscerti! Ah! Vuole ancora preparare la pozione d'amore? Beh! Affari suoi! Posso venderti le erbe che gli servono! Ho salvato la tua fattoria! Credo di meritare un po' di gratitudine! Devo pur guadagnarmi da vivere, no? Bene, tieni! Di a Melanippo di lasciarla agire per bene! Tutto bene! Oh, no! Tantanamma! Tantanamma! Allora! Tantanamma! Tantanamma! Grazie.